Prima di tutto un grazie a tutti voi che state qua, è bellissima questa sala, questa è questa arena. Allora uno pensa vale proprio la pena fare il film se c'è tanta gente che lo segue. Poi voglio ringraziare Antonella di Nocera e l'Archimufi, voglio ringraziare Lorenzo Paroni, voglio ringraziare il Sindaco e tutta San Giorgio.